Musica di arrivare qua, perché se arrivi lì sei storto, di arrivare qui però non so dove è andata se non arrivi ti teniamo su però devi fermarti così e non indietro perchè io non torni giù dai! ma tu arrivi sotto, ti modi e ritai quando tu arrivi è la velocità che ti porta su, se tu tieni aperto ti scivola, riapre per dargli il saltello come se fai saltino perchè se tu tieni gasato ti scivola lì e resti coppato si eh non è così si oh guardo ragazzi vi saluto ciao ciao parla con lui quelle mascherine ciao ciao proviamo Miki che sono qua a prendere che sono qua a prendere grazie grazie grazie